Bentornati sul canale Amo gli italiani. Oggi con le ultime notizie come Una delle separazioni che ha stupito di più l'Italia è, sicuramente, quella tra Francesco Totti e Ilari Blasi. L'accordo tra di loro prevede cifre impressionanti. I retroscena sulla separazione tra Ilari Blasi e Francesco Totti continuano a persistere inesorabilmente Attualmente, sui giornali di Cronaca Rosa, sembra non esistere altra coppia al di fuori di loro. Sulla vicenda infatti stanno trapelando tantissime notizie. Una delle ultime è inerente ad alcuni regali che, Francesco Totti, si è scambiato con la sua nuova fiamma Noemi Inoltre si continua anche a parlare della cifra esorbitante dell'accordo tra gli ormai ex coniugi. Ormai è noto a tutti che Francesco Totti e Ilari Blasi hanno deciso di comune accordo di giungere alla separazione Proprio perché la decisione è stata consensuale, saranno proprio loro due a decidere come dividersi il patrimonio. Si tratta di una decisione presa in modo egregio, soprattutto considerando che ci sono tre figli nel mezzo. Attualmente Ilari Blasi si sta dedicando una sana vacanza in compagnia dei suoi ragazzi in Africa. Con loro è presente anche la sorella della conduttrice, Silvia Le incredibili cifre della separazione tra Francesco Totti e Ilari Blasi Francesco Totti invece è alla ricerca di una nuova casa a Roma, dato che la villa che condividevano insieme resterà ad Ilari. Ma come funziona invece la separazione del patrimonio? Ecco cosa hanno deciso, come riportato dal sito Più Donna Francesco Totti è in possesso di sette società, mentre la Blasi ne ha soltanto due Inoltre Ilari, di queste due società, ha partecipazioni al 90% e sono la number 5 SRL e la società sportiva dilettantistica Sporting Club Totti La conduttrice è anche proprietaria di un appartamento a Milano Totti invece è il proprietario di una villa alle ore di un appartamento nello stesso quartiere E poi è il proprietario della casa a Sabaudia, un villino nel quartiere AXA, due magazzini e due garage La notizia bomba che sta facendo il giro, in questi giorni, riguarda proprio Francesco Totti e la sua nuova fiamma Infatti, dopo la fine della sua storia con la bellissima Ilari Blasi, Totti ha già perso la testa per un'altra donna Il suo amore pare proprio che sia destinato a lei Il suo nome è Noemi, ed è la donna che è stata più volte vista la fianco dell'ex capitano Come riportato da Il Messaggero, sembrerebbe che Francesco Totti abbia regalato a Noemi un bracciale con cinque pietre Regalo come una sorta di pegno d'amore Dove l'ha acquistato? Nella stessa gioielleria dove comprava per Ilari Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video Ciao! Ciao!